Musica Fri e fai a tutti io sono Octi di Pura Febbre Italiana e in questo video sono col mio cappellino da 50 centesimi come al solito E che il potere della connessione pura sia con voi miei cari amici che avete cliccato sul tasto iscriviti e sulla campanellina subito lì vicina Per non perdere mai i video e le live e rimanere sempre aggiornati Arriviamo a 10.000 like per questo escape the prison mi raccomando raga un bel like così porterò altri video del genere In questo video infatti faremo una fuga dalla prigione ma ce la faremo a scappare dalla prigione? Partiremo in 4 ma quanti riusciranno effettivamente ad arrivare alla fine e soprattutto riusciremo a trovare la fine la fuga dalla prigione? Guardate il video fino alla fine per scoprirlo il codice della mappa chiaramente è in descrizione Io mi raccomando raga in descrizione trovate il link di instagram fateci un salto veloci veloci Inoltre da pochissimo ho comprato Forna in Monopoli quindi ve lo consiglio tantissimo perché è divertentissimo ragazzi Veramente veramente divertentissimo trovate tutti i link in descrizione E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella Mi raccomando raga è molto importante iscrivetevi perché veramente non ve ne pentirete E se non vi iscrivete chiaramente la vostra connessione farà super schifo e non date la colpa a me Detto ciò let's go Allora ragazzi voglio tutti con skin da furfanti barra ladri quindi qualsiasi tipo di skin Cosa ridi? Perché hai messo quella lì? Ok siamo la squadra perfetta Ragazzi siamo in prigione siamo stati imprigionati infatti ora dovremo scappare da questa prigione qua Voi capite? Sì Dovete scappare Eh sì Allora la prima cosa da fare sicuramente è sfruttare le torce per scappare ve lo dico No 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 non si può spaccare nulla ecco io sono fuori adesso Allora ora dobbiamo andare vediamo un po' qua non c'è nulla Bisogna trovare la via di fuga bisogna guardare dietro ogni angolo perché veramente questa mappa è C'è una porta Ah dove c'è una porta dove c'è una porta Qua No c'è una guardia lì Non so se è il caso di andare per di là Isai ha trovato il posto però il problema è come ci sali come come hai fatto come hai fatto da arrivare lì Hai bisogno del parkour ragazzi Dai come hai fatto Qui c'è una porta è finta sta porta ragazzi Non è vero Cosa? Ma come è finta? Ah però c'è una strada verso il basso No non è vero è finta la porta Ma scusa come sei arrivato fin là Stai volendo ecco esatto così Raga bisogna andare per di qua per di qua No mi hai fatto cadere maledito te Bisogna andare per di qua seguite me guarda Sì sì ecco eccomi qua ci sono No no sono caduto No Ma non potevano mettere un checkpoint là sopra perché siete bloccati là Sì mi sto bloccando tantissimo Questo sembra il pezzo più impossibile di tutti Luca se fallisci cavolo cavati dal c***o e lascia lo spazio agli altri per favore Luca rispetta la fila maledetto che ti dovrebbero Dovrebbero rimetterti in prigione solo per sta roba te Io sono un vero forfante Ormai io sono intrippato con questa mappa Sto qui fino a domani mattina giuro No no guarda M salta sulla cassa sinistra Pazienza guarda guarda guardate 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 3 2 Ah no no Eh ma scusami ma se non è lì dove Ma è possibile non ci posso dire Scusa ottio io sono qui da qui in poi Da qui in poi niente devi saltare su questo E poi su questo E camminare E su questo E poi su questo E poi su questo E poi su questo E fare Dubidum bin dum bidum Tun 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 Beh è easy insomma E bu No! Mi sparano! Sì, checkpoint! Sì! Festeggia! Oh! Iza! Iza! Anche Iza è arrivata! Balliamo, balliamo! Luca, sei l'unico scarso! No qua, ehi, ehi! Qua c'è una finestra! Vediamo un po', qua qua qua, guarda c'è il vaso No, non c'è, non c'è niente No, ehi Ti riporto di là Guarda, ti faccio vedere Ma, le prozioni Sposta No, no, no No, raga l'ho trovata Raga, raga l'ho trovata Venite qua, venite qua Qua, che, che storie Che furbetti Che, oh, siamo già all'esterno Non so cosa significhi Dai, andiamo, andiamo Basta vantarti solo perché esce Ho fatto una season 2, FIFA Dai Vai Luca, apri, apri Oh, che, che, no Guarda che storia Hai visto Ma era facilissimo da capire Aveva profondità Dov'è che c'è la guardia, non vorrei No, 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 fermo Gira subito a sinistra Appena entri Ma qua, eh ma Luca, ma aspetta Vieni qua Luca un attimo Mettiti qua Mettiti qua Luca, salta sopra di me Tipo, riesci No, 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 no Ah, no, ti, eh, ho capito Ho capito Vai profondità, vabbè Qui ormai si sa chi è il pro No È il pro No, ma ti spara la guardia Accidenti a lei Ma io prima sono salito C'è un passaggio Un buco Eh, esatto No, no Non ci credo Ma il karma è una roba che ho Sì Ragazzi, addio Checkpoint fatto Io i procioni adesso la distraiamo Tu vai 3, 2, 1 Vai, 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 vai Ok Andiamo Oh, oh, oh No, no, no Non di qua Non di qua Non di qua Di qua a quanto pare Vediamo un po' C'è il tiro di chi sei amici No Ma No Ragazzi Aspettate, aspettate Vi mostro io Esatto Devi saltare sulla porta Raga Il problema è questo Come fai da lì Sali sul vaso Ma è impossibile Allora aspettate Ma secondo me Ma aspettate un attimo Vediamo un po' Ma magari dietro questa guardia No, dietro questa guardia Non c'è proprio nulla Raga, non è di là che bisogna andare È di qua Guardate Era quella che provavamo prima Otti Esatto No, vabbè Io ci sono Allora Ascoltate Dovete saltare di qua E poi di là E poi sopra Ecco Chiaramente Non tutti insieme Ma sei difficile Guardalo Ecco Chi è che ha buttato giù la bandiera Tutti insieme ragazzi Tutti insieme Vai Doviamo entrare nei muri Raga, aspettate un attimo Voglio provare un'altra cosa Chiamatemi Procioni M è bruttissimo Ciao sfigati Io sono entrato qua Mi sono spaventato Poi ho guardato in su E ho scoperto la porta E ho detto Ah, easy Ti stiamo incoraggiando Forza Luca Forza Grandissimo Raga Raga È brutto È inutile Ah È un kamikaze Oh, l'ho tirata fuori Eh Cioè Beh Noi avevamo il c... Non aveva niente Ho capito dove dobbiamo andare C'è un'unica uscita E questa è palese Venite di qua Venite di qua No, aspetta Rizzi Sto sapendo uscita io Eccola qua Era aperta anche Ah Luca Sei simpatico Non si esce da nessuna parte qua Vabbè Ma non prendi un po' d'aria No, non credo Luca Mi amorosa deve parlarti Ah Luca Sei un gay Ma davvero tanto Mi hai distrutto i sogni che avevo Mi ero già fatto Tanti tanti I bei progetti E soprattutto perché Ti piace il cazzo Tu me li rovini Mi sono molto arrabbiata Sono tanto offesa Perché Non ho capito Il contesto Noi la staremo aspettando Quassù Ciao Allora Devi salire Ecco su quella roba lì Ok Buttiamoci giù Oh sì Per forza insieme Nel senso che Uno distrae Io distrago È vero Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta raga Ce l'ho fatta No Ce l'ho fatta Mi distrago io per Luca Vai Ora io le distraggo No ragazzi Vabbè Io Subitissimo Subito Sei Qua sopra non c'è niente Qua sopra non c'è niente Dovete mangiare il mio cibo Per vedere se è avvelenato Esatto Ciao ragazzi Dove sei? Eh Allora Guardatemi Dovete mangiare il mio cibo Dovete mangiare il mio cibo E Octi? Oh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Tu come fai cosa? Eh Guardami Ciao 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 Dai ragazzi Sono carico Sono carico Devo aver superato quella parte impossibile Certo Super carico Ah Vai Luca Vai Luca Vai Luca Uh uh Adesso lì cosa si deve fare? Adesso Qui Vedete Vedete che sul muro C'è C'è Sul Sul coso C'è un Cosa? Dai raga Sì Questa è stata facile Allora Allora No No dai Cos'è sto Iniziamo con i giochetti I labirintici assurdi Ok 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 Qua c'è una torcia Allora Non chiudete mai le porte Così capiamo Dove Dove Già siamo andati Raga raga Ho trovato un buco sospetto Luca addio Andiamo Luca Abbiamo compagnia C'è quello il trucco? Su Capì Porca vacca Ok Ok Checkpoint Checkpoint Vai 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 Corri 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 Il trucco non è farla bene Farla velocemente Corri 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 No ma Queste cose puzzano sempre di Sì sì che arrivi in cima e cadi Chiaro Puzzano sempre Ora ci sarà una trappola infilata nel muro Sicuro Vai 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 Entra entra You only live once Vai vai Buttati giù Vai Perfetto Non bisogna andarli là Ho trovato l'uscita Anche secondo me Infatti Vieni qua Eccola qui Aspettatevi Te l'avevo detto che questa era una di quelle cose Porca vacca No non buttartici Oh dove siete voi Siete su Sì Aspettate che salgo Aspettate che salgo Oh Oh Ma c'è una porta qua L'avete vista Dove? Ma dove? Qua 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 Guarda guarda La vedi? No No Aspetta mi ha laggato Ok Ce l'ho fatta Aspè 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 Come hai saltato fin là Luca come hai saltato Ok Sto prendendo la rincorsa E poi devi saltare qua Sì Sì Ce l'ho fatta Venite qua Occhio perché c'è la guardia Occhio perché c'è la guardia Ok ci sono Ma perché questi vasi Così a caso Ok Eh strafacile E una volta arrivato qua Devi salire qua sopra Io ho paura di andare qua Sono sicuro che ci sarà qualche Tipo di trappola O altre robe Devi sparare le bandiere Devi sparare le bandiere Alla tua sinistra E alla guardia Soprattutto Ce l'ho fatta Ok Ok Probabilmente Devi sfruttare Oh Sì facilissimo Pensavo più difficile C'è il checkpoint Raga diventa sempre più difficile Ok Ok Ce l'ho fatta Ce l'abbiamo fatta Per ora Per ora Allora proseguiamo Con la nostra Fuga Da questa prigione Molto bene I procioni Non si sa perché Non lo sento più Intanto Boh vabbè Stiamo fuggendo Siamo fuggiti Assolutamente no Checkpoint qua So dove Dobbiamo andare Allora Allora Ascolta Vieni Vieni qua Dentro Dentro Pam Ok Si Buono Buono Vieni con me Occhio a quello lì Occhio a quello lì Ok 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 Oh 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 Ok salta Occhio c'è una trappola Dove Occhio l'avevo vista Eh io l'avevo vista Il problema è quelle che ancora non si vedono Ah fermo Fermo Ok 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 Non muoverti troppo Ce n'è un altro Ok ok Fermo 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 Occhio Occhio Per qua Ogni mossa Sbagliata è letale Guarda che ce ne sono tanti Mi sa che abbiamo finito Si Si Fatta Fatta Noi ce l'abbiamo fatta Noi possiamo dire di avercela fatta Ce l'abbiamo fatta Evase di prigione Sbagliata Musica Grazie per la visione!